La mia vita è una figata, vorrebbe un lavoro. Ma bisogna vedere quello che stai fa? Che stai fa? Io so fa un po' di tutto, basta che ci sia la guadagnata. Ehi, ma le scialle giraldi! Pure voi avete deciso di venire via ad allenare in questa palestra. E qua, e qua. Ma guarda, adesso ti calzo, tu ogni volta gli apri bocca è un'occasione che perdi questo zitto. Ma perché ti ho detto? Non posso cercare di ripararti. E a giù lo cerca sulla maffanculo, ah? E voluto riusci per forza. Vedi sti signori? I vedi? Ecco, sono ricchi, puliti e cattivi. C'hanno i brillanti, i profumi, si danno un sacco di arie, ma quando vanno a cagà, puzzano come noi. Ha capito con il sì? Cosa c'è per secondo, per cortesia? Ma signor, per secondo c'èmo la porchetta a pecorina. Come cucinata? Con il fogo. E c'è un bel sciuffo di rosmarino piantato dentro al bucio del culo. Buona però, gliela ordino io, andiamo buco, andiamo. Grazie. 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 Grazie.